Volevamo presentare la nostra proposta che riguarda le frazioni. Io sono un uomo delle frazioni, ci sono nato, ci ho sempre abitato, ho fatto parte dei comitati di frazione che negli anni 90 hanno portato l'installazione del semaforo a Sant'Anna e a Valli. Conosco esattamente le problematiche che insistono nelle frazioni, la più importante delle quali è quella di sentirsi emarginati rispetto al centro. C'è la netta sensazione degli abitanti delle frazioni di essere abitanti di serie B. Per invertire questa cosa noi pensiamo di istituire l'assessorato alle frazioni che con le frazioni dialoghi continuamente, che ascolti i bisogni e che porti le soluzioni per risolverli. Conosciamo benissimo quali sono i problemi che vanno dalla mancanza di trasporti, dall'internet che non c'è, che vanno a Cavanella da una posta che bisogna riaprire, che vanno dalle fognature che mancano in quasi tutte le frazioni e anche lì c'è la possibilità di intervenire in maniera concreta perché con i fondi della legge speciale queste cose sono fattibili e ci sono fondi in abbondanza per poter intervenire in questi problemi.